Un brano che vuole sensibilizzare sull'importante tematica della salvaguardia dell'ambiente è realizzato in collaborazione con un artista di fama internazionale della musica regga ed è accompagnato da un videoclip animato, si intitola Save the Planet ed è il nuovo singolo dell'artista salernitano Piervito De Rosa in arte Piervito Grisù, che dopo il successo registrato la scorsa estate con la canzone Il tuo profumo insieme ai Sud Sound System è pronto a lanciare il suo nuovo singolo, è infatti uscito da pochi giorni il brano Save the Planet realizzato in featuring con Anthony Johnson, artista di fama mondiale e superstar della musica regga. La canzone, ha spiegato l'autore, affronta la tematica della tutela ambientale ed è accompagnato da un videoclip che è un cartone animato che ora è disponibile sul mio canale YouTube ma successivamente sarà presentato nelle scuole per sensibilizzare i più piccoli al rispetto e alla tutela dell'ambiente. Un aspetto questo a cui Piervito Grisù tiene particolarmente e ha spiegato che nel progetto saranno coinvolte prima le scuole del territorio salernitano e poi l'iniziativa sarà portata anche fuori dalla campagna. Il brano è stato prodotto dall'etichetta discografica campana La Pecora Nera, la parte musicale è stata realizzata da Rupa Rupa Records e il video del nuovo singolo è stato invece realizzato in collaborazione con altri due artisti salernitani, Enzo Loria che ha realizzato il concept e i disegni e Antonio Scarpetta che ha curato l'animazione. Il nuovo lavoro discografico inoltre sarà presto presentato e suonato in diversi live che Piervito Grisù inizierà a realizzare già dalla fine di questo mese di aprile. Il tour regga e tamorra in full band toccherà varie tappe in tutta Italia e non solo.